Eccoci qua, buonasera, ben ritrovati all'agenda, questa sera in agenda c'è un Udine che non si sente, che non fa rumore, anzi per citare il professor Cocchini direi che si può usare questo termine, l'egoismo è rumoroso, la solidarietà è silenziosa, ecco parleremo di questa città silenziosa, diciamo che è una città che è l'interfaccia di un fenomeno planetario, quello dell'immigrazione, ma che va a toccare anche tanta, tanta povertà che deriva sia dalla crisi cominciata peraltro dieci anni fa, sia dall'evoluzione anche dei costumi, le separazioni, i figli che se ne vanno, che tornano, che stanno in casa, i genitori soprattutto, i genitori anziani che diventano qualcosa a cui provvedere, perché evidentemente nessun altro può farlo con quella intensità, e quindi tutto diventa un po' più complicato. Dicevo, parleremo di questa città silenziosa, un minuto, un minutino per vedere la scheda e poi vi presento gli ospiti. Forse non è giusto aspettare Natale per deporre l'ascia di guerra e fermarsi un attimo a guardare l'altra faccia della medaglia, di stogliere lo sguardo dallo straniero che popola le nostre strade, che vive con il cellulare, che sta in albergo mantenuto dai nostri soldi, che sporca e non lavora. Bisognerebbe guardare più spesso invece a quel popolo silenzioso che non ha particolari connotazioni ideologiche, che non muove guerre e, come vuole la tradizione friulana, lavora, sgobba, da volontario. Lo fa in silenzio e, tra l'altro, non siamo riusciti a filmare uno solo degli operatori in prima linea. Vedrete forse delle mani che lavano piatti o preparano pietanze. Restano sconosciuti questi volontari e in silenzio, quello stesso silenzio che li circonda ogni giorno, mattina e sera, senza mai pretendere. E insegnano che se la povertà ha anche un che di nobile, la miseria non fa distinzioni. Una storia edificante? Buonista, come si dice? Appropriata per l'arrivo del Natale? Certo, i problemi sono molti e altri, ma se sotto l'albero si dà voce a chi generalmente non ce l'ha, abbiamo messo a punto un nostro regalo di Natale. Ecco, questo era un flash su una città di cui si parla abbastanza poco. Antonella Nonnino è l'assessore comunale ai diritti e all'inclusione qui a Udine. Ho letto recentemente che lei si è messa in strada dopo una nevicata, è andata a cercare chi era senza tetto, ma soprattutto chi stava letteralmente gelando. Che esperienza è stata? Quanta gente ha trovato? Com'è la situazione? Allora, faccio sempre questa premessa, ovvero il fatto di scendere in strada nelle notti più fredde è un'attività che in questi anni ho sempre fatto e che ho sempre considerato ovvia per un assessore che si occupa di diritti e di inclusione sociale. Quindi non è una boutade, non è stata l'unica volta che sono uscita nemmeno quest'anno, perché obiettivamente per un fenomeno così difficile da comprendere e da capire, ovvero quello di persone che in realtà vogliono quasi nascondersi rispetto ai servizi, è opportuno andarle a incontrare una ad una per rendersi conto di quali sono i numeri e di qual è la reale portata. Quest'anno la situazione è tristemente sempre uguale per quelle persone che si trovano in strada, che magari tentano più volte percorsi, per cui si tenta più volte percorsi di accoglienza e di inclusione, ma che diventa difficile portare a termine essenzialmente per problemi di salute mentale o di dipendenza da sostanze. Questi sono i due grandissimi motivi che fanno uscire le persone poi dai percorsi proposti e quindi purtroppo in questi anni d'inverno mi ricapita di rivedere le stesse persone. Non sto chiaramente parlando di ragazzi di richiedenti asilo, ma sto parlando... Eccolo qua, volevo farle appunto questa domanda. Chi sono queste persone? Allora, a Udine abbiamo queste tipologie di persone che sono per strada. Da una parte c'è certamente il numero dei richiedenti asilo che sono usciti dai vari progetti di accoglienza e che in questo momento non hanno un posto dove andare. Dall'altra parte è che fanno una domanda di accoglienza che non potrà mai essere esaudita perché il loro percorso di accoglienza è finito e quindi dovranno in autonomia trovare una soluzione. D'altra parte invece ci sono quelle persone che sono storicamente difficili da includere in percorsi, che sono già conosciute ai servizi, su cui si sono fatte diverse progettualità, diverse proposte, ma su cui evidentemente i servizi hanno un respiro troppo corto di fronte ai loro bisogni. Sono cittadini italiani. Ecco, questo mi premeva perché poi accanto a lei c'è Michelini che magari... Ci sono cittadini italiani e noi per fortuna, a me piace moltissimo il titolo di stasera, il popolo silenzioso della Udine solidale, perché... Fatto io. Eh, bravo. Bravo. Perché questo popolo silenzioso della Udine solidale ha imparato che per fare una vera operazione di inclusione non si chiedono curricula. Bene. Si lavora e basta. Bene. Allora abbiamo Loris Michelini, parentesi, avete chiuso sul candidato sindaco del centrodestra? Può confermarlo? Sì, sì, possiamo confermarlo. A me dicono che ci sono altre riunioni domani perché qualcuno... Ma le riunioni ci saranno ancora sicuramente, però diciamo che il centrodestra, per quello che rappresenta, ha chiuso sul nome del candidato Fontanini. Allora, la Lega Udine è così libera al posto in regione dove non ci va Fedriga, ci va Riccardi e Blasoni finalmente fa il parlamentare. Le riunioni fatte fino adesso avevano come spirito la coesione all'interno del centrodestra e che doveva decidere Udine. Udine ha deciso. Udine ha deciso. Bene. Lei sarà il cessinico assessore? Io penso che per l'esperienza e per quello che ho fatto anche in questi anni, credo di, se vinciamo ovviamente, di avere un ruolo abbastanza importante in questa città perché il progetto è ambizioso e devo dire la verità che il progetto l'abbiamo scritto insieme. Bene. Allora, le spiego com'è nata questa trasmissione. Volevo capire se effettivamente, oltre alla valanga umana che ci sta travolgendo, anche gli udinesi, anche i nostri vicini di banco, si direbbe una volta, oppure compagni di condominio, i friulani, gli udinesi, hanno difficoltà. Ho trovato che ne hanno. Lei, dal suo punto di vista, come vede questa situazione? Sicuramente, intanto, io devo dire una cosa, che non sono solo volontari quelli che assistono i disagiati, ma sono volontari anche quelli che sono e fanno parte dell'associazione di volontariato, proprio vero. Tanto è vero, sono stato per esempio sabato scorso alla Quiete e lì ci sono tantissimi volontari che stanno assistendo i nostri anziani. I donatori di sangue per me sono dei volontari, anche perché donano il sangue a tanta gente e via dicendo, tante associazioni di benemerite che fanno tutti i giorni volontariato, chi porta il pasto anche alle persone anziane, italiane, non italiane e via dicendo. Quindi un plauso sicuramente a tutto lo volontariato udinese, non solo udinese, ma a friulano in generale. Poi ci sono i problemi in questo periodo ancora più acuito, che è quello dei senza tetto, come diceva la mia collega, l'assessore Nonino, il consiglio comunale. Insomma praticamente queste persone hanno difficoltà. Hanno difficoltà, un po' sono certamente frutto di quello che è successo ultimamente, cioè io la chiamo ancora invasione da parte di molti estracomunitari che non sono stati sicuramente gestiti dallo Stato italiano in maniera coerente e quindi i comuni si sono trovati di fronte ad una emergenza che è unica nel suo genere. Poi ci sono anche le persone italiane che invece vivono in Stato veramente di disagio. L'altro giorno sono andato in stazione e ho visto due persone a prendere mio figlio che tornava con il treno e ho visto due persone che dormivano in stazione nel sacco a pelo e sono stati gli agenti a chiudere la stazione e queste due persone sono state trattenute all'interno con forza. Evidentemente il disagio non è proprio così schedato come sembra. Oppure tante ragazze che purtroppo svolgono attività di postituzione e quant'altro che meriterebbero qualcosa di assistenza in più ma che in realtà sono lasciate lì. Ecco non voglio gettare benzina sul fuoco. Io non voglio adesso generalizzare però diciamo che il disagio esiste. Secondo lei il trattamento è come dicevo io dicevo che la miseria accomuna un po' tutti ma il trattamento prevede queste disparità che voi vedete sempre diciamo al centro-destra. Sicuramente c'è anche questo. Certo non si può fare tutto l'erbo in fascio però c'è effettivamente quando a mangiare la torta se così vogliamo lo stanziamento regionale o nazionale che viene dato ai comuni per gestire se siamo in cento è una cosa, se siamo in mille chiaramente non si riesce a sopperire a tutto. È chiaro e evidente che c'è qualcosa che non va o si aumenta lo stanziamento o si diminuisce gli utenti. Gli utenti purtroppo stanno aumentando perché la crisi economica ha fatto anche quello che non doveva fare fino adesso e la realtà è che il comune, io adesso non voglio dire che non ha fatto, ha fatto quello che poteva fare si poteva fare di più ma certamente io mi vedo e mi rendo conto che tante persone italiane hanno paura a dichiarare lo stato di disagio per esempio, tante persone si trovano all'ultimo momento in situazioni disastrose con i figli per via delle separazioni e quant'altro e il comune non è al corrente allora io dico dobbiamo fare anche noi un'opera di divulgazione, cioè gli italiani, per non dire gli stranieri ma gli italiani che non hanno la casa Ne parliamo dopo, ne parliamo dopo della casa Hanno un problema perché ci sono Ne parliamo dopo, sentiamo Manuela Croato che è tante altre cose ma è anche volontaria alla mensa della Caritas Io sentivo quando parlava di Michelini un certo stacco tra quel che ho visto e quel che stava dicendo lui perché poi di fatto quel che ho visto è un disagio assoluto direi che comprende stranieri, mille mi pare, che orbitano attorno a cosa e italiani, un 200 che sono un numero abbastanza importante Cosa dice? Ma sì, io dico, io sono un semplice volontario, non rappresento assolutamente nessuno se non me stessa C'è una cittadina che davanti ad altri cittadini che hanno bisogno ha sentito il dovere di mettere a disposizione una parte del suo poco tempo per dare una mano alla mensa della Caritas Le persone che ho incontrato in questi quasi tre anni in cui una volta alla settimana vado in Caritas sono persone di tutti i tipi Ci sono alcuni italiani, non moltissimi, sicuramente non la maggioranza ma ci sono alcuni italiani che si ritrovano a vivere una condizione di disagio con la fatica di ritrovarsi in una situazione alla quale non erano preparati per cui persone che non riescono a fare la spesa e quindi hanno bisogno della borsa spesa persone che vengono semplicemente per mangiare, persone di varie realtà Quello che ho notato da cittadina è che nella nostra città c'è una rete che funziona Io prima di andare in Caritas davo una mano nella mia parrocchia e nella mia parrocchia che accoglie persone del territorio che hanno bisogno c'è questa rete che lavora in sinergia con gli assistenti sociali del comune per cui le persone sono monitorate si evita che ci siano condizioni di abuso per cui uno va a chiedere la borsa spesa in cinque parrocchie diverse e c'è una rete di assistenza integrata attenta ai bisogni delle persone questo io da cittadina che per ora perché non sappiamo mai che cosa il futuro ci riserva io da cittadina diciamo che mi sono sentita abbastanza tranquilla dico senda la mia città, certo che viviamo in una realtà più favorevole rispetto ad altre però c'è questa capacità di fare rete quando tutti cercano un pochino di tirare la coperta dalla loro parte che tipo è il volontario medio se esiste un volontario medio? ma in Caritas ci sono tanti ragazzi che sono richiedenti asilo che occupano il loro tempo dando una mano di solito all'inizio eravamo di più gli italiani adesso ci ritroviamo sul gruppo diciamo il martedì sera quando vado io siamo lo standard di 9-10 persone e di italiani siamo 1-2 gli altri sono quasi tutti ma la molla qual è? la molla per cui si va a fare i volontari sì uno spirito come dire radical chic per cui si fa una cosa oppure una missione oppure un'espiazione non lo so no non espiamo assolutamente nulla semplicemente siamo tutti consapevoli che non c'è nessun merito nell'essere nati a Udine piuttosto che a Kabul e quindi abbiamo pensato almeno parlando sono persone, alcuni sono pensionati ci sono altre persone come me che lavorano molto e riescono a ritagliare soltanto qualche ora ci sono studenti che fanno i loro tirocini sono studenti di educazione professionale della nostra università che dopo magari ritornano gruppi di scout che dedicano da martedì scorso c'è il gruppo di una parrocchia di Bay Vars sono 5 ragazzi con la loro catechista che vengono e fanno questa attività per cui insomma il bisogno di essere solidali è parte della vita di molte persone e alcuni decidono di concretizzarlo andando a dare una mano nel pratico bene il dottor Paolo Olivo, una vecchia conoscenza è la rappresentante, il capo del banco, il presidente del banco alimentare che è il carburante su cui viaggiano molte situazioni allora cos'è il banco alimentare? è qualche numero per spiegare l'importanza del gruppo che lei presiede sì, il banco alimentare è essenzialmente un aspetto di quella rete di quei nodi che accennava prima giustamente la signora Croato perché insieme sono d'accordo anch'io in città stiamo facendo un bel lavoro comunque il banco alimentare appunto è quella in realtà il cui compito principale anzi direi quasi unico è quello del recupero di tutte le eccedenze alimentari che altrimenti andrebbero sprecate o buttate via recupero di eccedenze alimentari perfettamente commestibili ovviamente non scaldute quindi come i prodotti che noi abitualmente mangiamo nelle nostre case che per varie ragioni purtroppo restano invenduti e non consumati posso fermarmi perché sono andato a vedere qualcosa ho trovato un minutino che è abbastanza simpatico da vedere rispetto allo spreco sostanzialmente vediamo se la regia può mandarci in onda il piccolo video che abbiamo recuperato sulla rete vediamo se si capisce un po' meglio cosa fa banco quindi appunto come abbiamo visto recuperiamo le eccedenze o le cose che gli alimenti che andrebbero altrimenti sprecati e tramite le strutture caritative condizionate con banco alimentare che oggi sono 354 diciamo riusciamo a fare avere gli alimenti agli indigenti quindi alle persone che hanno bisogno quindi essenzialmente una funzione intermedia fra quello che è l'eccedenza e lo spreco e il bisognoso tramite le strutture caritative cioè quella rete che accennava prima signora Croato fondamentale senza la quale anche l'azione del banco alimentare sarà meno efficace ci dice i numeri beh solo l'anno scorso beh in questi vent'anni abbiamo distribuito circa 60 milioni di euro di alimenti gratis l'anno scorso per non fare troppo lunga la storia è quasi 2700 tonnellate che sono quasi 7 milioni di euro questo è un magazzino mi pare sia questo è il nostro magazzino di Pazian di Prato l'ultima nostra conquista nel senso che la storia nostra è molto lunga abbiamo cominciato di fronte alla stazione della ferrovia con due stanze senza descaldamento e senza servizi igienici dopo 21 anni per fortuna con l'aiuto delle istituzioni pubbliche, fondazioni e quant'altro abbiamo un nostro magazzino di proprietà appunto a Pazian di Prato di 1500 metri ho capito, io recentemente ho visto i volontari all'opera nei supermercati come dire un sacchetto e un volantino sostanzialmente un volantino sostanzialmente e via andare insomma la scatola di tonno piuttosto che la confezione di scatola di tonno voglio dire non la scatoletta in sé e com'è andata questa raccolta? anche quest'anno la colletta alimentare è andata molto bene diciamo che ormai è stabile nel suo esito come prodotti che riusciamo a recuperare in quella giornata perché ormai siamo in quasi tutti i supermercati quel giorno quindi quest'anno abbiamo raccolto quasi 530 tonnellate non volontari del banco insisto come diceva la signora Croata perché è fondamentale volontari del banco sono 50 a Pazian di Prato nella colletta alimentare hanno aiutato 5600 volontari che vuol dire tutte le associazioni, le realtà ecclesiali e non le stesse associazioni che noi aiutiamo adesso le faccio una domanda stupidissima studenti vanno agli italiani o ai stranieri? come? gli alimenti? vanno a tutti con le camisole ovviamente mi ero autodenunciato quindi non c'è problema allora vediamo intanto una prima intervista accolta alla messa di Capuccini di Via Ronchi già a mensa di Capuccini, ora a mensa della Caritas, anzi dal 2012 a mensa della Caritas coordinatori e cuoche più 40 volontari che fanno mi pare qualcosa come 200 pasti al mattino sì al pranzo e sui 90 alla sera perché poi servono anche un territorio un po' più grande allora cominciamo ad ascoltare alcune testimonianze e poi abbiamo finalmente l'ospite che completa il panel siamo in Via Ronchi dove c'è la mensa, la mensa cosiddetta dei poveri chi sono questi poveri Luca? sono persone italiane anche, ci sono cittadini comunitari e anche i ragazzi richiedenti asilo quindi è un servizio che da 4 anni risponde al bisogno alimentare di persone che si presentano qua ma che non sono solo i profughi abbiamo ad esempio 190 italiani tra uomini e donne una fascia d'età che va prevalentemente dai 45 ai 60 anni persone impoverite, persone che hanno perso il lavoro e che fanno fatica a rimettersi sul mercato del lavoro persone con problematiche di salute e quindi ci portano la riflessione su come si fa a arrivare a fine mese pagando l'affitto di una casa popolare magari solo con una pensione di invalidità quindi problemi molto concreti la risposta dal nostro canto è una risposta concreta che è prevalentemente quella del cibo adesso riusciamo anche a fornire il pasto alla sera ma soprattutto abbiamo fatto un grande investimento Tatiana poi vi dirà, vi spiegherà come sull'ascolto delle persone perché non ci basta aprire la porta, fargli entrare e dare un piatto di pasta ma ci interessa anche altro anche l'accoglienza 190 italiani e quanti stranieri? abbiamo conteggiato 1200 persone in totale quindi di questi 200 sono italiani un altro 30% sono i cittadini comunitari che arrivano soprattutto da paesi dell'est e poi i restanti sono cittadini extracomunitari insomma non necessariamente richiedenti asilo politico afghani, pakistani di cui si sente tanto parlare ma anche cittadini dell'Africa che sono arrivati in Italia 20 anni fa i loro figli sono nati in Italia lavoravano nelle fabbriche del manzanese ad esempio tantissimi e poi pian piano hanno perso lavoro la crisi hanno rimandato le famiglie nel loro paese sono rimasti loro a tentare di presidiare voglio dire c'è turnover? c'è ricambio? oppure si cronicizza questa cosa? c'è ricambio generalmente c'è ricambio soprattutto c'è la nostra intenzione a far uscire a far modificare qualcosa nella storia di queste persone per cui tutto il lavoro che viene fatto il lavoro di accompagnamento è un lavoro per riavvicinarli a quella che è la rete dei servizi abbiamo fatto degli accompagnamenti dai servizi sociali abbiamo fatto entrare delle persone nel dormitorio della Caritas perché si erano trovati a dormire in strada abbiamo accompagnato persone ai servizi specialistici per problematiche di gioco problematiche di dipendenze quindi facciamo anche questo lavoro faticosamente ma lo facciamo tanto lavoro tanto lavoro è anche quello che fa Don Davide Larice che insomma è una realtà consolidata del volontariato qui a Udine e in Friuli Don Davide l'ho vista domenica a una partita di pallavuolo e mi pare che le hanno dato qualcosa evidentemente la solidarietà è così trasversale da entrare anche nei campi di gioco noi possiamo dire che un grande aiuto lo abbiamo dalle associazioni adesso parlo del privato dalle associazioni private dalle persone, cittadini comuni che come avrà letto anche sul messaggero i quali ci permettono di garantire continuità ai servizi che abbiamo e soprattutto di dare anche una qualità qualità come è lo stato attuale della povertà non del disagio complessivo ma della povertà è grave è grave perché abbiamo stanno aumentando gli italiani specialmente persone che vivono con difficoltà economiche che non hanno reddito persone che dormono ancora in macchina da parecchi anni madre con figli che non sono figli di 23-24 anni da parecchi anni e poi abbiamo gli stranieri noi non abbiamo non facciamo concorrenza a nessuno perché il punto d'incontro che è un servizio particolarmente importante per noi non fa concorrenza con nessuno è un servizio prima di tutto gratuito cioè abbiamo un contributo del comune che ci arriverà una parte adesso di 24 mila euro in un anno ci arriverà a metà adesso a metà il prossimo anno poi per il resto è tutto sulle spalle del centro abbiamo garantito abbiamo adesso è calato il numero degli stranieri avevamo fino all'altro giorno fino a circa qualche giorno fa 5-6 giorni fa avevamo una sessantina di questi giovani che dormivano e dormono ancora qualcuno o al cimitero o verrà nei giardini pubblici o alla stazione adesso da qualche giorno verrà trovato alloggio come l'anno scorso via rivis in via in via rivis 40 posti ecco però ci sono tanti altri fuori noi abbiamo mediamente 60 adesso stranieri tutte le mattine alle 8 escono a fare le colazioni diamo abbondante colazioni grazie anche all'aiuto che ci vengono io non sono i nomi ma sul messaggero sono scritti seconda volta c'è dal giornale poi si paga alla fine ho pagato sì tanto però io non posso ricordarmi tutti i nomi ecco quindi abbiamo molto aiuto c'è molta generosità bene 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 abbiamo già sfondato la prima parte pubblicità e poi riprendiamo sì